Allora, come ultimo passaggio del nostro ragionamento su Simone Martini e sulla sua bottega, analizziamo un altro capolavoro assoluto della pittura del Trecento, l'annunciazione datata 1333 e firmata da Simone insieme al cognato, cognato che ormai è un collaboratore fisso, potremmo quasi dire un contitolare della bottega, Lippo Memmi. Sull'antica cornice, che poi fu sostituita da una carpenteria ottocentesca, si leggevano proprio i nomi dei due artisti, si leggeva Simone Martini e Lippus Memmi Desenis, Mep Inxerunt, Anno Domini 1333. L'opera segna una svolta perché mostra in modo ormai completo e definitivo e consolidato l'atteggiamento di Simone nel fondere gli elementi tipici della pittura duccesca, la raffinatezza del colore, l'attenzione per il dettaglio, la sottile resa psicologica dei personaggi, gli elementi di raffinatezza materica ed ultralineare che caratterizzano proprio l'indole di Simone e però insieme anche gli elementi di realtà prospettica e volumetrica appresi nei tanti contatti con l'arte fiorentina e soprattutto giottesca. Non ci stancheremo mai di sottolineare questo passaggio, Simone assimila moltissimo da Giotto, ma ciò che ne deriva nella sua pittura è qualcosa di completamente diverso. Simone non è interessato ad una realtà di impianto assoluta o in comprensiva o almeno non antepone questo elemento di realtà alle esigenze di raffinatezza cromatica, di preziosità descrittiva, di ricchezza formale e questi elementi, uniti alle tendenze rivoluzionarie dell'arte fiorentina, generano un linguaggio autonomo che fatalmente tenderà a svilupparsi in una direzione diversa, quasi opposta a quella impressa dall'arte giottesca. E allora, semplificando al massimo, potremmo dire che dove le intuizioni di Giotto condurranno quasi naturalmente al Rinascimento, e ricordiamo le parole di Bernard Berenson quando definisce Masaccio una sorta di giottore di vivo, i modi di Simone invece scivoleranno altrettanto naturalmente verso il gotico cortese e il gotico internazionale. Allora, tornando alla nostra annunciazione, possiamo iniziare col dire che fu realizzata per l'altare di Sant'Anzano nel Duomo di Siena, nell'ambito di un progetto decorativo molto più ampio, che partiva dalla grande maestà di Duccio posizionata sull'alter maggiore, ma che avrebbe dovuto coinvolgere i quattro santi protettori della città, Anzano, Savino, Vittore e Crescenzo, e l'importanza della commissione è testimoniata dall'ingente pagamento di 300 lire pagate a Simone e a Lippo proprio dall'Opera del Duomo. Lo schema iconografico di questa grande tavola, completamente innovativo, segue il ragionamento del francescano Pseudo San Bonaventura sul Vangelo di Luca, condensando in un'unica scena una messa ricchissima di elementi simbolici. Nelle cuspidi, per esempio, trovano posto le figure clipeate dei quattro profeti che previdero la virginità della Madonna e che trattarono il mistero dell'incarnazione. Geremia, Ezechiele, Isaia e Daniele, che vedete nei particolari al lato della slide, sostengono quindi dei cartigli con i rispettivi versetti e posizionato sopra la testa di Maria, per esempio, Isaia mostra il cartiglio con le parole Ecce Virgo Concipiet, tanto per capire come funziona l'iconografia di quest'opera. L'arcangelo, appena giunto dal mondo celeste, tanto che il prezioso mantello appare ancora mosso nell'aria, nell'atto di ricadere sulla schiena, non è come se stesse atterrando, diciamo, in quel momento, saluta la Vergine con le parole Ave Grazia Plena Dominus Tecum, che sono rappresentate in rilievo a pastiglia d'oro come una specie di fumetto che ha origine dalla sua bocca. Sulla testa porta una corona di ulivo perché porta un messaggio di pace, quella mano sinistra offre un altro ramoscello di olivo, in questo caso simbolo del frutto che dovrà nascere, cioè Cristo, il portatore di pace. Quella mano destra indica la colomba dello Spirito Santo e i gigli, che sono attributo cardine della purezza della Madonna, ci sono, trovano posto in un raffinato vaso d'oro cesellato posto sullo sfondo. La Vergine, tra le più belle invenzioni della pittura universale, si ritrae impaurita ma con un'espressione più di aristocratico fastidio che di umiltà e chiude i lembi della veste all'altezza del collo con un gesto di ritrosia di un realismo straordinario. Con l'altra mano, sempre la Vergine legge il libro, che secondo la tradizione contiene il versetto profetico di Isaia, ponendo il pollice tra le pagine e facendo attenzione a non perdere il segno. Questo è un elemento importante perché è un altro di quegli elementi di un realismo narrativo freschissimo e sicuramente efficace, ma l'efficacia dipende anche dal saper unire i molti elementi di realismo ad una raffinatissima astrazione che è tipica proprio del gusto ultragotico di Simone. La Vergine, infatti, che è composta secondo una serie di falcature elegantissime, è fasciata da una veste talmente netta e linearistica nei contorni da sembrare quasi ritagliata nel metallo. La figura è allungata fino all'inverosimile, la testa e il volto dai tratti minutissimi appaiono sin troppo piccoli rispetto alla lunghezza del corpo sinuoso e ancheggiante, tanto da risultare anche a un'analisi superficiale assolutamente sproporzionata, cioè la testa è troppo piccola rispetto alla lunghezza affilata e falcata del corpo. Allo stesso modo, le dita delle mani, sottili, affusolate, appaiono troppo lunghe rispetto al resto del corpo. I colori assoluti, si noti per esempio la qualità del blu profondo della veste, privo di sfumature, come se fosse intagliato in una pietra preziosa e in un cristallo colorato, mostrano una sapiente orchestrazione dei toni e una ricchezza tipicamente senese. Per esempio le decorazioni d'oro a rilievo sulla veste dell'arcangelo, o la ricchissima stola quadrettata che, come abbiamo visto, sta ricadendo sulle spalle dell'arcangelo stesso, ancora in movimento, o la gamma delicatissima di sfumature delle penne, delle fiume, delle ali dell'arcangelo che sono evidentemente ali di rapace. Il realismo dei volti e dei gesti, la qualità epidermica, quasi tattile, delle superfici, dei tessuti, la descrizione minuziosa degli oggetti e delle carpenterie, offrono gustosi elementi di verità che però si stemperano nella piatta magnificenza del fondo oro, un fondo astraente e nello stesso tempo capace di trasferire il racconto dal piano umano a quello divino. Un ultimo accenno ai due santi laterali, Anzano sulla sinistra, caratterizzato da uno sguardo bonario, accondiscendente mentre assiste alla scena tenendo in pugno il vessillo con la balzana senese, sicuramente opera di Simone, e dall'altra parte una santa martire non meglio identificata, forse Margherita, sulla destra, più rigida e severa, compresa in un disegno certo più bloccato, caratteristiche che hanno generalmente fatto optare la critica per un'attribuzione al Lippomemmi. Lippomemmi, figlio di Memmo di Filippuccio, se ricordate quello che avevamo visto essere il Pictor Civicus di San Gemignano, presso il quale abbiamo visto avere inizio la prima fase indipendente della carriera di Simone, dopo un probabile alunato di matrice d'Uccesca. Lo stesso Lippomemmi, cognato di Simone, che ne sposò la sorella, consolidando una collaborazione con l'intera famiglia, tanto da dar vita a quei fratelli a un'unica bottega. Ma il Lippomemmi, seppur dotato di una discreta qualità esecutiva e di una buona pennellata, non arriverà mai ai vertici creativi del cognato, divenendone più un emulo, si potrebbe dire, dei modi e persino degli schemi formali più di successo. È il caso, per esempio, della maestà di San Gemignano, evidentemente desunta dal modello della grande maestà del Palazzo Pubblico di Siena, dalla quale riprende l'invenzione del baldacchino e dalla quale sembra voler mutuare la ricchezza dei parati, delle vesti e le funzionature anche delle aureole, che sono uno specifico marchio di fabbrica della bottega di Simone, oltre e soprattutto all'impianto di massima della scena. Vi mostro la versione, diciamo, di Simone Martini. È evidente in questo confronto la flessione qualitativa rispetto al modello, rispetto a questo che state vedendo, no? La rigidità delle figure di Lippo Memmi, la sovrapposizione delle teorie dei Santi poste ai lati del trono, con modalità più tradizionali, verrebbe da dire più duccesche, rispetto alla leggerezza, alla costruzione spaziale sapiente, operata da Simone nella grande maestà senese. La maestà di Lippo, comunque, commissionata dal senese Nello di Mino dei Tolomei, capitano del popolo e podestà di San Gimignano tra il 1317 e il 1318, Nello di Mino dei Tolomei, rappresentato opportunamente inginocchiata alla sinistra della Vergine in primo piano, ebbe comunque un ruolo fondamentale, cioè il ruolo di diffondere i modi dolci e suntuosi di Simone Martini insieme al gusto civico e profano tipicamente senese, e alla relativa tendenza a declinare una scena sacra in un contesto di gusto laico, in questo caso comunale e cavalleresco, che si sposava perfettamente alla situazione di San Gimignano, altro comune appunto di tradizione, come posso dire, borghese e cavalleresca insieme, e che comincia a distanziarsi dalla maniera gustosa nell'invenzione narrativa, ma sai più secca ed essenziale, delle figure del padre di Lippo, Memmo di Filippuccio. Quindi con questa opera, diciamo, si crea una sorta di cesura dalla tradizione di Memmo di Filippuccio, che abbiamo visto nelle nostre lezioni introduttive su Simone Martini, è qualcosa di completamento o almeno parzialmente diverso. La Madonna della Misericordia della Pianacoteca di Siena, confrontata alla Madonna della Misericordia di Lippo Memmi, cosa ci dice? Un dipinto come questa Madonna della Misericordia di Lippo Memmi, che viene realizzata per Orvieto, città per gran parte artisticamente senese, come abbiamo già avuto modo di vedere, ci mostra un pittore di livello certo inferiore a quello di Simone. Basta un confronto appunto rapido con l'opera ancora giovanile di Simone, che esegue l'opera insieme al padre di Lippo, Memmo di Filippuccio, cioè la Madonna della Misericordia della Pianacoteca di Siena, per notare nel lavoro di Lippo un disegno sicuramente più povero, più sforzato, ad esempio nei tratti dei volti quasi caricaturali, un'impostazione dell'impianto spaziale decisamente più debole, con questi santi affastellati uno sopra l'altro sotto lo spazio del manto, spazio del manto che non riesce in alcun modo a trasmettere un senso anche solo vagamente credibile del volume, mentre invece abbiamo visto che Simone Martini già in gioventù riesce a darci il senso del volume. Ecco, per quest'opera in particolare, per l'opera intendo di Lippo Memmi di Ordieto, si è fatto riferimento al possibile intervento di un fratello di Lippo, Federico Memmi, del quale non si ha nessun riferimento stilistico, cioè l'idea è che il livello dell'opera è talmente basso rispetto alle collaborazioni che Lippo ha con Simone che si immagina la mano di un pittore ancora di qualità inferiore. Resta comunque l'idea di questi figli di Memmo di Filippuccio che si associano in qualche modo a Simone, artisti di qualità comunque certo inferiore a quella del maestro e quasi coetaneo Simone Martini, che sono sottomessi al peso delle innovazioni di Simone Martini al suo estro, che sono intente a replicare i modi di Simone Martini e i suoi schemi, che ne diffondono il gusto ma che non riescono mai in alcun modo non tanto a superare ma anche solo ad eguagliare Simone Martini. E il peso dell'esempio di un maestro innovativo, rivoluzionario come Simone, che nell'immediato non avrà eredi del suo calibro nemmeno in ambito senese, è testimoniato ad esempio anche dalla tavoletta a doppia faccia. Le due diverse scene, presumibilmente provenienti dagli sportelli di un altarolo portatile, furono infatti riportate su tela e montate insieme su di un unico supporto, tavoletta oggi conservata al Louvre, la cui scena più celebre che è questa che vedete, la caduta degli angeli ribelli, mostra una finezza e contemporaneamente una complessità d'impianto ed una originalità nelle soluzioni stilistiche e narrative inimmaginabile senza l'esempio del nostro maestro senese di Simone Martini, al quale peraltro l'opera è stata attribuita per lungo tempo, attribuzione sicuramente dubbia ma che viene data ancora un po' superficialmente, per certa, in diversi manuali scolastici. Il piccolo dipinto che vedete, in passato è stato accostato anche a Lippomemmi, il quale però non raggiunse mai, come abbiamo visto, i vertici tanto avanzati, questa altezza non solo nella pittura ma anche proprio nell'invenzione. Ecco, questa tavoletta si mostra come una squisita summa della grande arte senese di Primo Trecento e coinvolge gli strumenti espressivi di Duccio, per esempio nella ricchezza e nella delicatezza del colore e nell'impianto della figura di Dio Padre circondato dai serafini, che è un po' più tradizionale rispetto alle opere più mature di Simone, ma anche gli strumenti più tipici di Simone Martini, per esempio la delicatezza sinuosa delle figure, la raffinatezza degli andamenti lineari, il trattamento degli ori. Insieme a questi due riferimenti però si affacciano dei modi più spinti, dei modi forse addirittura più rivoluzionari, rivoluzionari, aperti alle novità fiorentine, i modi che poi saranno di Ambrogio Lorenzetti, del quale ci occuperemo a tempo debito, soprattutto nell'impostazione spaziale, nelle incredibili torzioni delle figure angeliche, colte nell'atto di tramutarsi in demoni neri dotati di artigli e ali di pipistrello e in generale nell'invenzione prospettica. Se notate la fuga degli scragni alla base della cuspide, ecco questa fuga degli scragni resta qualcosa di ineguagliato nell'intera pittura trecentesca per quanto è spinta e per quanto funziona, diciamo, a livello prospettico. Di Simone però resta l'incredibile inventiva, per esempio la soluzione degli scragni lasciati vuoti dagli angeli ribelli, oppure la volta celeste punteggiata di stelle sulla quale poggiano ai piedi i sei angeli guardiani del paradiso, la battaglia fra i quattro arcangeli capitanati da Michele intenti a precipitare gli angeli deviati dalla luce celeste all'oscurità terrena, con questo globo bruno che è inteso come una sorta di voragine buia pronta ad inghiottirli in una costruzione perfettamente calibrata che trova il suo doppio apice ai due estremi del racconto, in alto Dio padre, in basso il mondo demoniaco, quindi Dio padre da un lato, il mondo demoniaco dall'altro. In fondo possiamo dire che in assenza di un pittore al quale attribuire con certezza un corpus tanto esiguo quanto straordinario, cioè queste due tavolette fondamentalmente, l'idea di Laclaut di mantenere l'attribuzione a Simone Martini, al Simone Martini più maturo, quello della fase avignonese, un pittore cosmopolita, squisito, colorista, padrone di uno stile consolidato, ma già da tempo aperto alle influenze prospettiche fiorentine e magari in parte anche influenzato dall'opera dei due condazionali, Pietro e Ambrogio Lorenzetti, dei quali parleremo nella prossima lezione, appunto questa attribuzione può anche essere una soluzione da considerare, purché, a differenza di quello che si fa in tanti manuali, si ricordano sempre i dubbi di un'attribuzione che non è per nulla certa, è un'attribuzione comunque abbastanza spinta. Di certo, l'ultimo Simone, quello del periodo avignonese, l'amico di Petrarca che per il poeta aveva realizzato un ritratto di laurea, e che Petrarca stesso ebbe ad elogiare in due dei suoi sonetti, come abbiamo visto in una lezione precedente, mostra una capacità di rinnovare se stesso, di superare costantemente i suoi schemi per venire incontro alla committenza, e questo l'abbiamo visto in tante opere, una capacità di rinnovare se stesso si diceva assolutamente straordinaria. Per tutta la sua vita, come abbiamo detto più volte, Simone si cimenta in commissioni di genere, origine, ambiente, contesto diversi. Per tutta la vita spazia da un supporto all'altro, da una tecnica all'altra, senza porsi limiti, e mostrando sopra ogni altra dote una inesauribile capacità di adattamento, oltre che una inesauribile inventiva. Una capacità che non si attenua neppure nelle ultime opere, tra le quali questa è forse la più celebre, l'allegoria virgiliana. Si tratta di una miniatura realizzata ancora una volta su commissione di Francesco Petrarca come frontespizio di un codice, quindi praticamente di un libro, con le opere di Virgilio, commentate dal retore grammatico latino del IV secolo, Mario Onorato Servio. Ecco, anche in questa tarda prova di immaginazione e di interpretazione di una scena idilliaca di sapore cortese, realizzata con questa minutissima tecnica appunto della miniatura, ben lontana dalla fresco e dalla pittura su tavola, Simone si reinventa e compone un'allegoria freschissima, dal linearismo molto ricco e mette insieme a questo linearismo le consuete preziosità cromatiche, un'opera giocata in punta di pennello tra il solito realismo dei dettagli minuti e il necessario aspetto simbolico invece, quindi antirealistico, magistrale, nell'idea come nella realizzazione, l'unione appunto di questa freschezza e di questa narratività, di questa capacità realistica nel dettaglio, è però armonizzata all'interno di un contesto simbolico straordinario. In questo caso noi abbiamo Enea che è il ritratto sdraiato a terra appoggiato al fusto di un albero, intento a scrivere prendendo ispirazione dalla natura che gli si dispiega intorno e in particolare dal cielo puntinato di stelle, si vede proprio Enea che guarda in alto e che prende ispirazione. Il suo lavoro è letteralmente svelato da Servio che scosta una cortina di stoffa leggerissima, semitrasparente, una specie di garza delicata, ricchissima, mostrando ad un uomo armato il poeta nel suo lavoro. Ecco, l'uomo armato potrebbe quindi essere Enea e simboleggiare il poema virgiliano, così come il contadino intento a portare le viti con la roncola e il pastore immortalato mentre munge una delle sue pecore rappresentano con tutta evidenza le georgiche e le bucoliche, sempre di Virgilio. Al centro, su due filatteri sostenuti da manialate, due coppie di esame tre rimati che esaltano da una parte Virgilio, poeta italico autore delle tre opere, quindi l'Eneide, le georgiche e le bucoliche, e dall'altra il grammatico Servio, che è stato in grado con la sua scienza di svelare gli arcani di queste tre opere, quindi il commento di Servio che serve a spiegare, diciamo così, in qualche modo Virgilio. Ecco, l'opera di Simone e dei suoi collaboratori a questo punto è così cosmopolita, raffinata, colta, sofisticata e contemporaneamente venata di uno squisito realismo del dettaglio e di una densità e di una qualità cromatica assolutamente originari, sicuramente senesi, da travalicare però ai confini senesi, perché a questo punto c'è una miscela di aspetti che non hanno più solo caratteristiche senesi o caratteristiche fiorentine o caratteristiche duccesche o caratteristiche giottesche, si tratta di un'arte completamente nuova, un'arte capace di porre le basi di quella cultura del gotico internazionale che si diffonderà di qui in avanti nella gran parte d'Europa.